ok allora con sapone del tesilo per i piatti spugna andiamo a lavare questa come si chiama contenitore per la damigiana grazie devo cercare come renderlo utile andiamo alla valle ciao prima di verniciare questa tidozza daremo un fondo aggrappante per la plastica quindi è un primer 100% acrilico dell'AREXO altrimenti la vernice non attaccherebbe sulla plastica è un po' di Aria vero? sì mamma mia aia che bello a chiasse oppure a... no a chiasse che cosa è chiasse scusa sì sì bravo così bravo ok ok vi faccio vedere il risultato della nostra pota damigiana ok il risultato finale guardate guardate com'è allora ho pensato di usare nel sala giochi dei bambini ok per mettere i giochi adesso andiamo a riempire con i giochi avete visto che bello guardate lo adoro è questi questi riempire con i giochi è la stessa cosa guardate quante mondizie che c'è a casa ok è stata riciclata è un riciclaggio anche Crybaby aiuto va bene a posto guardate che bello mi piace tantissimo ok adesso vai in sala giochi ok ditemi cosa ne pensate ok serie vi saluto ciao grazie Grazie.